Era una sera come tutte le altre, ma in qualche modo era diversa dalle altre, non so se mi spiego. Beppe Fortunato era sempre il primo a arrivare. Beppe era sempre lì. L'unica persona che si sentiva di scommettere con lui era il Duca. He loved gambling and playing cards, he would bet on absolutely anything. Sì, lui era molto orgoglioso, lui voleva vincere a tutti i costi. Non ha voluto proprio cambiare idea, niente da fare. Non ha spioso tanto, ma proprio tanto. Lo sto stai a fare, per la guerra contro il Vietnam. Era una partita tesissima. Tutti volevano vincere. Era l'ultima mano. Beppe Fortunato stava dando le carte e il Duca Marchese disse quella famosa frase. Il Duca lo guardò negli occhi e gli disse. Se vinci ancora questa, mi mangio un ippopotamo. Tre piatti, cinque piatti, nove piatti. Non è romano.